Eccoci qui, come è stato un saluto a tutti, ben ritrovati, di nuovo buone feste, vi invito come sempre a commentare numerosi, a lasciare un bel like e iscrivervi da questa parte. Mercato Milan, che sarà sicuramente la squadra protagonista del mercato, ma più per necessità, perché è davvero una squadra che è stata quasi azzerata dagli infortuni, in particolare un reparto alla difesa, dove arriveranno almeno due difensori, almeno due, ma non per migliorare la squadra, di fatto per riuscire a metterne 11 in campo sostanzialmente, visto che come sapete Tomori sarà fuori un paio di mesi e è ancora lontano il rientro di Calulu, oltre che di Ciao. In tutto questo aumentano le chance di un ritorno al Milan, aumentano le chance di rivedere Gabbia al Milan, giocatore di 24 anni, che è stato dato in prestito al Villareal fino a giugno. Quest'anno non sta facendo male, ha fatto 7 presenze in Liga, in totale 479 minuti, 6 in Europa League, 495 minuti, quindi 1000 minuti più o meno li ha giocati. E' chiaro che non è il titolarissimo, però è un cotitolare, diciamo che verrebbe al Milan per sistemare a livello numerico da squadra, è chiaro che il ricordo a livello tecnico non è straordinario, questi 6 mesi magari restituiscono almeno un giocatore sicuramente un po' più pronto, però ecco va a colmare un vuoto. Non sarà l'unica operazione, diciamo che in questo momento si sta avvicinando sensibilmente al Milan, ma non sarà l'unica operazione se arriverà a un giocatore che il Milan vuole prendere più forte, l'identikit. E' di un mancino che possa giocare sul centro-sinistra, bravo sulle palle alti, in grado anche di impostare. Però in questo momento, attenzione a Matteo Gabbia, nome molto 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 caldo. E' chiaro che non puoi comprare tutti e quindi devi fare di necessità virtù. Ditemi che ne pensate, commentate qui sotto, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, arriviamo presto a 20.000 iscritti. Mando un abbraccio a tutti e ancora buone feste a voi e ai vostri cari. Ciao a tutti! Ciao a tutti!